Roma ospita l'evento di lancio di PlayStation 4, la nuova generazione di console targata Sony. E per una notte Castel Sant'Angelo è stato il teatro di uno dei più grandi spettacoli di videomapping mai realizzati su un monumento storico. PlayStation 4 è un prodotto innovativo perché aggiunge agli elementi tipici del videogame anche un discorso di socialità che oramai è indispensabile per condividere il proprio giocato, per condividere la propria esperienza con amici e concorrenti all'interno della storia del videogame. È una piattaforma di intrattenimento quindi non destinata solamente a videogiocare ma anche a molteplici funzioni e contenuti interattivi. La cosa che mi ha stupito di più è senz'altro la comunità del Joypad che è più anatomico rispetto alla precedente edizione e più funzionale. Un grande evento per i tanti appassionati che nel corso dei 18 anni di storia hanno dimostrato il loro entusiasmo per la potente console giapponese. Grazie a tutti! Grazie a tutti!